Anche in questo terzo esercizio andremo a tracciare una perpendicolare ad un segmento, ma questa volta andremo a tracciare una perpendicolare che passi per un punto a piacere esterno al segmento stesso. In questo caso ho tracciato un segmento AB e vado a scegliere in maniera arbitraria un punto P che però non si trovi sul segmento ma si trovi fuori. Poi potevo scegliere qui o potevo andare nell'altra direzione, non ha importanza, un punto qualsiasi vicino anche al segmento è assolutamente esterno. Quindi posiziono sempre l'album da disegno o un cartoncino sotto, prendo il mio compasso e lo punto in P. Ma questa volta il compasso deve avere un'apertura un po' superiore alla distanza che c'è tra il punto P e il suo segmento. Non troppo, basta anche un'apertura minima, ma che vedete è leggermente superiore alla distanza del punto del segmento. Punto il punto P e traccio un arco che vado ad intersecare il mio segmento nei punti 1 e 2. A questo punto, mantenendo sempre l'apertura del compasso, vado a puntare il compasso nel punto 1 e vado a tracciare un arco che passi sopra e sotto al segmento. Faccio la stessa cosa puntando il compasso nel punto 2. Come vedete i due archi si sono intersecati nel primo caso del punto P, nel secondo caso sotto la linea. Io vado a prendere il righello, questo punto lo chiamiamo 3, vado ad allineare il punto P e il punto 3 e traccio il segmento fermandomi, volendo, al segmento AB. Oppure potrei anche proseguirlo e avere così una perpendicolare che comunque formerà 4 angoli retti intorno a un punto del segmento.